Volkswagen registra risultati positivi nonostante il Dieselgate. L'utile operativo del gruppo tedesco ha fatto un balzo del 40% nel primo trimestre dell'anno, attestandosi a 4,37 miliardi di euro. E secondo la direzione, nel secondo trimestre dovrebbe essere identico. Anche il fatturato è aumentato del 10%, a circa 56 miliardi. Volkswagen, che l'anno scorso ha sottratto a Toyota il posto di primo costruttore mondiale, ha ridotto i costi dei materiali, ha soppresso modelli non redditizi e ha affidato più potere ai singoli marchi per rispondere alle necessità dei rispettivi mercati, dopo lo scandalo delle emissioni inquinanti dei suoi motori diesel, iniziato nel 2015.